grazie signor ferrandello viaggio che mi avete portato la torta a casa torta di ricotta siciliana di pecora roba internazionale grazie buongiorno buona colazione a tutti vediamo com'è com'è squadra a mucca internazionale ragazzi buona colazione a tutti buona colazione a tutti il caffè della mattina non poteva vengare buon caffè ragazzi allora sembra fatta apposta ma stamattina si fa la colazione stile sicilia calzata di pecora non di pecora calzata con ricotta di pecora e caffè che bene pure vedete alla sicilia non è che qua manca il caffè però ero diciamo volevo riassaggiare questo caffè perché quando ero giuro bevevo ed è internazionale buon venerdì a tutti e buongiorno vi voglio un mondo di bene da baldassio a riscilla come come alla prossima a tutti